Ciao amici di Italia Top Games, torniamo con un nuovo video come sempre il giovedì per scoprire le novità di PES 2016 Allora, questa settimana c'è l'aggiornamento live e come vediamo ci sono molti giocatori del Barcellona Il trio magico Messi e Neymar su Ares, c'è Cristiano Ronaldo e Ronaldo e Ronaldo e Madrid Tiago Silvia del Paris Saint Germain, Aguero del Manchester City, Lam e Lewandowski del Bayern Monaco C'è Higuain del Napoli, autore di un gol contro il Torino domenica scorsa e tanti altri giocatori C'è anche Amsic del Napoli, autore di due assist, Miranda dell'Inter, Candreva della Lazio, Caglion, autore di una rete, Piani Cettotti della Roma Tra i giocatori che scendono invece troviamo Giaia Touré del Manchester City, Müller del Bayern Monaco, Cech dell'Arsenal, Tiago del Bayern Monaco, Sterling del Manchester City, Melo dell'Inter, Bonucci della Juve La Juve dopo 10.000 anni ha perso contro il Verona domenica scorsa e tanti altri giocatori che scendono Andiamo a vedere il piatto forte dell'aggiornamento di questa settimana Che è l'agente speciale In tanti si auguravano o comunque pensavano che sarebbe arrivato l'agente della finale Champions Non è così C'è un agente speciale un po' particolare perché guarda il futuro Cioè la stagione 2016-2017 E ci saranno quindi giocatori con un valore sopra l'80 Che in pratica giocheranno l'anno prossimo l'Europa League o la Champions League Adesso scusatemi un secondo, vincolo un paio di giocatori perché sono arrivati al massimo negli slot E faremo un paio di giri con tutte palle nere, almeno da quello che ha dichiarato Konami Adesso poi andremo a vedere se le cose stanno veramente così Perdonatemi un secondo, devo togliere, spingolare un paio di giocatori E così possiamo girare un paio di volte le palle Non è una volgarità, è per far girare le palle in PES 2016 funziona così Allora, andiamo a conoscere l'agente speciale Quello qui, Challengers for UCL-UEL Ovvero UEFA Champions League, UEFA Europa League 16-2017 Come vedete 100% palle nere Andiamo a vedere l'elenco dei bersagli Ci sono parecchi giocatori, 331 Li andiamo a vedere per valutazione generale Ci sono i soliti Messi, Ibrahimovic, Robben, Ronaldo, Suarez, Neymar, Ramos, Turet, Aguero, Bale, Tiago Silva Un po' tutti i giocatori importanti Qui ci sono tutti i giocatori che qua sicuramente o quasi sicuramente Secondo un attimo della matematica Giocheranno l'anno prossimo o l'Europa League o la Champions League Come vedete ci sono 331 giocatori Sono veramente tanti Però sono veramente tutti palle nere Sono tutti dall'80 in su Abbiamo visto rapidamente anche Hiller che adesso gioca con il Leicester E come sapete il Leicester l'anno prossimo affronterà la Champions League Direttamente da Fasa Gironi perché ha vinto la Premier League Ecco, come vedete veramente la creme della creme di BES 2016 Stiamo parlando di tutti i giocatori che hanno un valore dall'80 in su E abbiamo anche molti giocatori del campionato italiano Come Chiellini Stavo cercando Iquain con il suo 87 Vidal, Buffon, Alaba, Schweinsteiger Insomma tutte le squadre l'anno prossimo giocheranno o in Champions League o in Europa League Quindi il top del top dei giocatori che abbiamo in PES 2016 Allora facciamo un paio di giri e vediamo che succede Allora i soliti 10.000 GP E quindi vediamo un po' Io sto cercando Iquain come vice Ibrahimović nel mio 4-2-3-1 Sarei veramente felice di averlo nella mia squadra Vediamo se ho questa fortuna No, non mi pare proprio Iquain Lui è, stiamo a vedere un secondo Coutinho, Coutinho Non ci dispiace, un trequartista mi serve nel mio modulo Aggiungiamo a membri MyClub E poi facciamo un altro giro E poi dopo continueremo in un altro momento Ovviamente tutte palle nere Quindi è una gente molto interessante Nonostante il numero elevato di giocatori presenti Dall'80 in su Io vi consiglio di fare parecchi giri di palle E allora vediamo un po' che è qui Che abbiamo Abbiamo, abbiamo, abbiamo Bazzuber Interessante DC da 84 Difensore centrale Molto Questo ci è piaciuto Dai facciamo un altro giro Ah no, adesso ho riempito gli slot Quindi non posso fare giri Quindi per il momento ci fermiamo Qui Spero che abbiate fatto una bella scorta di GP La settimana scorsa Quando c'erano doppi GP Nelle partite di divisione Ah, vi volevo anche mostrare Che ci sono anche nuovi allenatori Ha detto Konami controlliamo C'è Guardiola Poi tutti questi nomi fake Spero che voi riuscite a capire Di chi stiamo parlando C'è Allegri invece Con tanto di foto C'è Giuseppe Seiro Che non conosco E altri allenatori Che dovrebbero essere i fake Dei allenatori reali Che affronteranno l'anno prossimo Champions League O Europa League Andiamo a vedere il challenge Di cui Konami Nel suo comunicato Non ha scritto nulla Andiamo un po' Coppa Challenge Online Vincitore Supremo Dal 12 al 19 maggio Stiamo un po' a vedere Di che si tratta Ah, dobbiamo vincere tutte e tre le partite Io non ci provo Sono troppo scarso Tre partite consecutive online Le vinco molto raramente E quindi non ci proverò Se voi ci volete provare Dovete vincere per tre volte Consecutivamente Tre partite online Per la prima volta riceverete un agente speciale La seconda volta riceverete 1500 GP Una challenge veramente tosta Tosta come non si vedeva da tempo Andiamo a vedere anche se c'è qualcosa Nel punto com Dopo che la settimana scorsa Ci sono stati Le competizioni nazionali Io non le gioco Io giocare contro il computer Mi annoia Devo dire la verità Non mi diverto molto Gioco sempre e soltanto online Oppure con le sim Per far rifiatare I miei giocatori Per le partite online Contro il computer Con il pad Non gioco mai Ecco no Sono rimaste Effettivamente Era stato detto Sono rimaste le competizioni nazionali In cui potrete vincere Gli agenti speciali nazionali Bene Con questo è tutto Io vi consiglio di fare Tanti giri Con il nuovo agente È veramente Molto molto interessante Con tutti i giocatori Al di sopra dell'80 In su Noi ci rivediamo Giovedì prossimo Con PES 2016 Ci rivediamo invece Sul nostro sito Tutti i giorni www.italiatopgames.it E sul nostro canale Youtube Che si chiama come il nostro sito Italia Top Games Grazie per l'ascolto Grazie per la visione E buon campionato a tutti